È possibile sognare un paese senza mafia e senza corruzione, un paese di giustizia e di memoria. È possibile con l'impegno, grazie a tutti i familiari in contemporanea, in questo momento, in tutta Italia e nel mondo, in Camerun, Costa d'Avorio, Bolivia, Messico, Brasile, Belgio, Francia, Germania, Malta, Martiglia, Parigi, Bruxelles, iniziative di memoria che sognano che sia possibile. Grazie di questa piazza, grazie di questi dolori, grazie di crederci insieme. Diamo la parola al nostro...